Ragazzi vedo una ruota che gira, non so voi ma secondo me è arrivato il momento, io ho un po' di ansietta devo dire la verità, incrociamo le dita e direi di partire con la spinnata, vediamo quale campionato ci aspetta questa settimana, ho paura, ho paura, ho paura, ok, giusto in tempo, squadra full evo raga, fica però, qua cambia un attimo la situazione, perché non possiamo buttare budget e non potete scegliere i giocatori. Mi chiedete quante evo hai? Ho queste, stile Cabilame, questa è la mia squadra full evo, Saliba non è evo, quindi qua ci andiamo a mettere qualcun altro ovviamente, sono tutte quante evoluzioni, in realtà ci sarebbe anche Gullit che è evoluzione Peak Food Champions, proprio vogliamo dirla tutta, c'è anche Trossard, c'è Diop che potrei utilizzare, però Gullit lo eviterei, quindi se possiamo fare proprio full evo, questa è la mia squadra full evo, e il portiere non esiste evo, quindi il portiere non può. Dove lo vogliamo mettere Gullit? Al posto di Rabiot? Ok, la chat ha deciso che Gullit giocherà al posto di Rabiot. Va bene, questa è la squadra. Ovviamente il portiere non esiste evoluzione. 31 su 33, allora tattiche personalizzate. Facciamo nel 4-3-2-1, giochiamo con il centrocampista sbloccato, sarà Llorente. Cancelo sbloccato, Walker diciamo fermo, ok perfetto, ce l'abbiamo. Beh raga, direi niente male questa no week evo. Ora andiamo subito a giocare, visto che abbiamo una cosa evoluzioni, mettiamo una bella divisa verde. Vai, divisa da evoluzioni, Manchester United. Giocheremo sempre con questa maglia ora. E scaletta, facile. Oh, subito Luis Muriel. Rigore. Era netto questo. Olè. Luis Muriel, la doppietta del fenomeno. Altro rigore. Me l'aveva capito mezz'ora prima, me l'aveva capito. Ti è beccati pure il time ed è tripletta di Luis Muriel che bullizza gli avversari. Nel senso, ce ne sono proprio pochi. Tanto, il mio R9, eccolo qua. Bello gio, Felix. Incredibile. Gol. Matchmaking particolare. Vai Nas, grazie a te, grazie a te. Ci aggiorniamo più tardi sul gruppo subs. Ah, madonna che gol rosischi. Ah, questo c'ha pure il rodri base, comunque. Vabbè. Bravo, Keen. Se invece hai qualche dubbio e così, puoi anche scriverlo direttamente in chat. Vai Walker, recuperami i rosicchi. Ma qua me l'ha triplato bene lui. Ok, gioco anziano di scioltezza. Eccola. Fuskas, Ciburga al primo tiro. Ma, ho spostato Dudekka troppo lento. Vai Muriel, bello. Meghidi e Tivela. Eccola. E... Eh, beh. Giusto così. Per pensare al fatto che mai me lo rendono, ma non credo. No, no. Perché dovrebbero? Non penso, non penso, purtroppo. Bella scaletta qua. E spacca a sta porta, va Walker. Bravo che mi va pure a segnare. Madonna Gullit. Che goletto che si è inventato qua. Io che goletto che si è inventato. Bravo lui. Bravo Muriel. Ci pensa lui. Medio Walker che mi azzecca il passaggio è magia. E poi Muriel che mi fa sti numeri. Bravo Muriel. Oh, è scioltezza. Giova Felix. Madonna santa. Che gol. E' una cosa buona. Non hai bisogno di niente, quindi. Guarda che uno due, va. Vai, Keen. Vai, 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 vai. Spacchi, Keen. Spacchi, Keen. Madonna. Madonna, Keen è evoluto. E la chiude. Guarda che azione. E la chiude. Quello penso che lo ricordate. C'è anche qualche clip sul mio TikTok. Bravo Muriel, ma parte sempre tutto da Joao Cancelo. Che bugio, ma Muriel il fenomeno. Ok, 3-0. Guarda quel ghoulit come l'ho fatto partire prima per farlo arrivare poi a fare questo. Diciamo che è lecito nella tua situa. Madonna Joao Felix come Paolino Di Bala nell'amichevole estiva precampiato col Monza. Vai Joao. Crea il panico. Ma guarda. Allora, innanzitutto. Mi dispiace, ma ci sono cose più gravi. Quindi pensa sempre a questo. So che è difficile in questo momento, ma ci sono cose gravi. Realmente gravi. Si recuperano facilmente, quindi meglio che sia caduto ora che più là. Questa cosa ti servirà a mare di lezione. Che bucio di culo questo in futuro, ma no a te. Lo uccidi. E Joao Felix è un fenomeno. Che mi devi far vedere, Manut. Ma che bucio di culo. Questa ha fatto due caldo di merda in maniera incredibile. Va bene, ora finisco qua e vedo. Si. Poi lo fermi a Luis Nazario, eh. E fatti perdonare, Luis Nazario Muriel. Se non è forte lo stai provando? In che ruolo lo stai provando? No, però, sebbio di testa tra Varane e Guardia, non è che lo accetto molto. Puoi stare forte, però. Vai, zio. Ti piace, Lore? Grazie, mi fa piacere. Anche perché l'ho fatta io, questo. Dai, però, che bu... No, vabbè, ma... Cioè, è scrittatissima, però, sta partita. Ho capito che... Cioè, credo che è la partita per il 9-1, ma... Mi sembra un po' too much. Comunque, mi sa, Heroicone ha niente questa sera. Ma direi anche basta, Heroicone, dai. Che partitaccia, questa. Cosa dire di questa squadra, raga? Squadra veramente bella, solo esteticamente. Difesa veramente top. Vabbè, tre quarti di questa difesa, togliendo il portiere, è la mia squadra titolare. Cancelo a sinistra, Varane, difensore centrale, che sto evolvendo. E Walker, Walker c'è la recensione, sempre sul canale YouTube. Guardia, altrlato, pure vi piace la recensione. Ancora rende sto Guardia veramente un muro con quel playstyle che si attiva sempre. Cancelo, tecnicamente, devastante, l'avete visto nelle partite. Cosa dire del centrocampo, con Gullit. È Gullit, quindi senza che perdo tempo su sto Gullit. Qua abbiamo il secondo Gullit, Renato Sanchez. Ancora rende pure lui in campo, rende molto più rispetto a queste statistiche. Lui stra-presente, stra-aggressivo, intercetta qualunque cosa, anche in fase offensiva è ottimo, in fase difensiva è ottimo. Llorente può fare tutto, sto giocatore può fare tutto. D'altro nel 4-3-2-1 è perfetto perché l'ha usato come centrocampista che si allarga sulla destra a difendere. E attacco, raga. Diciamo che, vabbè, Muriel è un fenomeno. Stante 6 partite, 69 gol, 25 assist è il fenomeno. Ve l'ho già consigliato nell'evoluzione Founder e se si potrà lo continuerà ad evolvere perché è stra-divertente. Ce l'ho pure nella full serie A. Joe Felix è quello che ovviamente ha sofferto un po' di più in queste 10 partite. 5-5, ok, belle skill, però giusto in area di rigone se sapete skill là vi potete divertire, ma non consiglio di fare 150k di evoluzione. E infine Keen, devo dire, la verità mi sorprende sempre perché a parte le statistiche che comunque sono buone, tanti gol, lui è evoluto, tanta roba. Quindi se ce l'avete, raga, io vi consiglio di evolverlo e vi consiglio di utilizzarlo ancora se vi servono attaccanti di Premier League perché ormai il prezzo sta scendendo. L'evoluzione dovrebbe essere ancora disponibile se non l'avete ancora fatta, quindi veramente stra-stra completo. E sono contento di sta full level. E ora il next step è finire questo su le... E niente, speriamo che mercoledì prossimo con il nuovo episodio del Team of the Week che esca qualche altro bel team perché questo fino ad ora è stato il mio episodio preferito. Grazie a tutti.